Fabio Massimo Conti è il Vicepresidente della Commissione Quarta Affari Sociali e Cultura e oggi avete convocato una conferenza stampa in Comune per un motivo preciso, quale? Abbiamo convocato una conferenza stampa perché ormai da troppo tempo stiamo chiedendo una Commissione Affari Sociali e Cultura, di cui sono Vicepresidente, per analizzare al meglio questa situazione che riguarda i licenziamenti dei tre dipendenti della Croce Verde che ormai ha fatto scalpore se ne parla negli organi massmediatici della città ormai da tempo e in seguito all'audizione del Presidente della Croce Verde Monachesi Vorremmo che la stessa Croce Verde per bocca dello stesso Monachesi o di un rappresentante che abbia voce in capitolo capire il motivo per cui questi ragazzi sono stati licenziati, ci hanno risposto che in virtù del fatto di alcune indagini giudiziarie in corso su queste problematiche non ritengono opportuno venire in Commissione a spiegarci la situazione Noi non vogliamo fare assolutamente polemica, chiaro facciamo polemica invece sul modo come è stata gestita tutta la faccenda perché una Presidente, una Commissione non ci può mettere il bavaglio, non ci può dire tutte le cose sono state ormai trattate, non c'è più niente di cui parlare, c'è una magistratura che si sta occupando quindi non se ne fa più niente Contro questo modo di fare politica noi assolutamente siamo contrari, ci batteremo e vogliamo assolutamente che venga fatta chiarezza e che ci sia data la possibilità di svolgere il nostro lavoro assolutamente in maniera super parte Con la possibilità di svolgere quello per cui siamo stati poi eletti